Questo fine settimana si è giocato anche il turno di Serie A Elite con le consuete due partite sabato e due partite la domenica e io direi di andare a vedere le migliori mete che sono state segnate in queste quattro partite. Grazie a tutti. 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 che è stato assassinato in Francia, a Parigi due anni fa e in questa giornata di martedì verrà rispettata un tributo nostro amico che ci ha lasciato in maniera tragica due anni fa. Momento dei saluti adesso, sì, caro Stefano. Mai vive il rugby, cazzo. Vamos. Grazie a tutti.